Buongiorno, vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo. Arriete, buona opportunità per le coppie che convivono di respirare aria nuova. Toro, oggi è un buongiorno per tentare la fortuna. Gemelli, serata simpatica in compagnia di amici. Cancro, molti single si sentiranno demoralizzati soprattutto in serata. Leone, le ricerie e i pettegolezzi sul vostro conto potrebbero mettervi davvero in cattiva luce. Vergine, avete le idee confuse e poco chiare, fermatevi a riflettere. Bilancia, cercate di portare avanti le vostre idee con più determinazione. Scorpione, fate molta attenzione alla voci che girano sul vostro conto, cercate di smentirle. Sagittario, qualcuno intorno a voi nutre sentimenti positivi e vi vuole bene in gran segreto. Capricorno, non intrometterti e non partecipare su cose che non ti riguardano. Acquario, gli impegni oggi non vi lasceranno respiro, sarete presi da mille cose. Pesci, state diventando troppo gelosi, con il tempo ne potreste pagare le conseguenze e pentirvene. Questo è tutto, a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo. Grazie. 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 Grazie a tutti.